Si intitola Regenesis, rinascita ed è la mostra personale della coreana Jonghyun Lee in esposizione al PAN. Come tutte le mostre in questo momento è chiusa in ottemperanza al DCPM a tutela della popolazione per l'epidemia da Covid-19. La mostra ha avuto sinora un grande successo di pubblico, i visitatori sono stati numerosi ed entusiasti, curiosi di conoscere questo universo scandito da piante, fiori, alberi composti in una visione di grande impatto emotivo e visivo. Jonghyun Lee lavora solo con materiali naturali, niente di industriale, quindi utilizza madreperla, radici, foglie, cenere di vulcano, polvere di carbone, polvere d'oro, madreperla, tuorlo d'uovo che mescola con le mani e stende sulla tela con il polpastrello. E' l'artista simbolo dell'incontro tra occidente ed oriente e questo è proprio un viaggio alla scoperta di un mondo, è uno scambio culturale. La mostra al momento è chiusa, appena finisce il lockdown si riapre e vi aspettiamo.